Al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Eccellenza, per ora dobbiamo dire che viviamo in una Repubblica perché questo ci è stato imposto. Avremmo diritto di sapere se possiamo ancora parlare di una vera Repubblica o se dobbiamo considerare l'Italia una monarchia mascherata da Repubblica Democratica? Se tutti noi possiamo considerarci suoi figli, mi piacerebbe sapere chi veramente è mio padre, patrigno adottivo, un intellettuale comunista o un filo monarchico che indossa la gabbana comunista? Girano tante voci in rete secondo le quali lei sarebbe figlio illegittimo dell'ultimo re d'Italia, Umberto II. La somiglianza tra lei e Savoia è impressionante. Nel sito del Quirinale la sua biografia parla solo dei suoi figli ma non fa riferimento ai suoi genitori. Un detto popolare recita «Chi tace acconsente!» Nel suo caso mi pare poco opportuno seguire la tattica del silenzio. L'argomento è delicato ma di un certo rilievo. Sono in gioco la sua responsabilità e la sua credibilità personale. L'argomento qui sollevato, per ora, è discusso solo tra il popolo delle rete al quale viene sempre più spesso negato la legittimità. Tutti sanno quanto possa essere difficile mettere sotto la lente d'ingrandimento una carriera politica come la sua ed è immaginabile la ricaduta che tale rivelazione potrebbe avere sull'immaginario collettivo la vita sociale e l'esigenza di dover riscrivere la storia della Repubblica. Nonostante le disposizioni riguardanti Savoia i loro discendenti siano state abrogate nel 2002 se fossero vere le voci che girano nascerebbero problemi determinati dalle attuali dettami della Costituzione. L'abrogazione è avvenuta senza sottoporre la questione al giudizio del popolo perché le due Camere raggiunsero il quorum previsto senza referendum. Però è sotto gli occhi di tutti quanto i nostri sedicenti rappresentanti siano lontani da noi. È anche vero che l'abrogazione di dette disposizioni ha sanato la sua attuale posizione non però quella precedente il 2002. Se lei veramente fosse un discendente di Casa Savoia non avrebbe potuto assolvere alcuna funzione pubblica né carica elettiva non avrebbe potuto vivere in Italia? E se vogliamo far osservare la disposizione transitoria e finale della Costituzione il suo patrimonio avrebbe dovuto essere consegnato allo Stato. All'epoca in cui lei è nato era impensabile parlare di figli illegittimi soprattutto se la notizia avesse coinvolto la Casa Regnante. Oggi, se nelle famiglie aristocratiche o regnanti nascono figli di seconda mano non ci si scandalizza più. Signor Presidente lei ha il dovere etico di chiarire le sue origini perché lei è garante della Costituzione le cui norme sarebbero state violate. Nel caso tutto fosse falso ritengo utile anche per il suo prestigio personale porre fine alla diffusione di una notizia non fondata che circola liberamente. La Procura della Repubblica potrebbe porvi fine ravvisando elementi di prova del reato di vilipendio al Presidente della Repubblica. L'unico modo per sciogliere ogni dubbio è far emergere la sua verità e celebrare l'infondatezza delle voci che girano producendo prove inconfutabili ed indiscutibili. Una spontanea richiesta di sottoporsi all'esame del DNA sarebbe una prova del suo coraggio e del suo rispetto per il popolo italiano che tanto l'ama. Nessuno può essere obbligato a sottoporsi all'esame del DNA. In tal caso si tratterebbe di trattamento sanitario obbligatorio applicabile solo in casi specifici e solo se ordinato da una certa autorità. Non fai il suo caso! Siamo a conoscenza del provvedimento da lei emesso 27 agosto 2013 in cui l'applicazione si definisce abuso ed eccesso di potere. Purtroppo questo esame viene imposto a tanti troppi cittadini senza il loro consenso. Se lo imponessero a lei sarebbe più sfortunato degli altri perché lei sarebbe escluso anche dal diritto di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ci rendiamo conto che le questioni qui sollevate non possono essere trattate in sede nazionale proprio a seguito dei compiti attribuiti alla sua carica. Lei presiede il Consiglio Superiore della Magistratura che sorveglia ai magistrati e nomina il Procuratore Generale della Cassazione. L'operato di quest'ultimo sfugge a qualsiasi controllo amministrativo e giuridico quindi nessun magistrato d'Italia potrebbe decidere con imparzialità ed interzietà su questioni giuridiche che dovessero sorgere in caso di fondatezza delle voci che circolano su di lei. Rientra tra i suoi compiti anche la nomina di alcuni dei giudici della Corte Costituzionale e di conseguenza lei non potrebbe far sollevare alcuna questione di incostituzionalità sul suo caso. L'Avvocato Generale dello Stato che dovrebbe rappresentare le istituzioni in un eventuale procedimento giudiziario e amministrativo assolve la funzione di giudice costituzionalista assieme al professor Sabino Cassese suo amico personale. A seguito delle questioni qui sollevate il suo caso potrebbe essere esaminato o direttamente da un comitato d'inchiesta costituito dai rappresentanti del popolo sovrano o se questo non fosse possibile da un organo internazionale che comunque dovrebbe essere affiancato dai rappresentanti del popolo italiano. Restiamo in attesa di una sua informativa i fiduciosi nella sua volontà di voler chiarire la sua posizione le porgiamo deferenti saluti. a